Fin dall'inizio mio padre ha trasmesso i suoi valori a noi figli e a tutti i dipendenti dell'azienda. Per noi la sostenibilità è una cosa molto importante. Questi sono gli obiettivi che abbiamo sempre ben presenti. Mio padre ha cominciato a produrre pet food per utilizzare gli scarti dell'attività avicola, del macello di polli, per non sprecarli. E poi ha capito che poteva essere un business. Per la ditta monge essere sostenibile vuol dire utilizzare meno risorse energetiche. Poi abbiamo anche una produzione di energia solare. Abbiamo circa 2 mega di pannelli fotovoltaici sopra i tetti dello stabilimento. Alcuni piccoli dettagli che aiutano. In questo momento abbiamo una produzione di energia pari alla metà dell'utilizzo dello stabilimento. Avere una società logistica integrata con la società di produzione ci ha portato ad avere dei vantaggi sotto l'aspetto di efficienza. la logistica è una cosa importantissima per la nostra ditta perché siamo in un territorio molto isolato. Infatti la chiamano la isola di Cuneo. Abbiamo delle strade molto strette, curve. Abbiamo bisogno di veicoli che siano potenti ed efficienti, che non consumino troppo a gasolio. Abbiamo intenzione di provare i veicoli alimentati a gas liquido. Per noi poter utilizzare dei veicoli a gas può portare un bel contributo di tipo ambientale sulla riduzione delle emissioni, ma soprattutto anche per quanto riguarda i costi diretti e indiretti. Abbiamo comprato i primi veicoli Volvo nell'inizio degli anni 80. Abbiamo scelto questi veicoli per la qualità, per la durabilità e per la sicurezza. Abbiamo continuato la nostra tradizione. È stata una fantastica storia e spero che continui così in futuro per moltissimi anni. auguro all'azienda di continuare così.